buone feste da nardstation buon natale a voi e vostri cari io sono riccardo dosso e oggi vi parlo di un film che si chiama sballati per le feste ed è un film naturalmente natalizio ma anche un film come avrete capito del titolo italiano molto sopra le righe che ha poco a che fare con la tradizione natalizia tradizione natalizia rappresentata da questa simpatica renna con cappellino perché giustamente dobbiamo mettere un qualcosa di natalizio oltre alle palle che girano bene e allora cosa succede in questo film con set rogen che voi vi ricorderete per tante commedi demenziali beh questo film non è altro che il solito come dire elogio e soprattutto tribudio degli effetti delle droghe quindi da una notte dalle un in poi tutti questi film che hanno parlato del giorno dopo delle conseguenze giorno stesso la notte stessa di una massiccia assunzioni di varie sostanze stupefacenti e soprattutto che cosa succede prendendo queste cose in questo film tre amici di cui uno ovviamente il famosissimo set rogen per aiutare uno dei tre che ha perso entrambi i genitori investiti e non è batman perché i genitori batman invece erano stati uccisi da una rapina decidono di tirare su di morale l'amico ogni anno con una tradizione ovvero fare delle pazzie a natale pazzia abbastanza controllata ma pur sempre pazzia passano dieci anni naturalmente i tre crescono le vite cambiano e decidono che quello sarà stata l'ultima notte anche perché il personaggio set rogen aspetta aspetta una figlia una bambina quindi deve mettere la testa a posto l'altro l'altro amico è diventato un atleta famoso anche se con l'aiutino e l'unico è che ancora è rimasto così nel suo limbo e appunto colui che ha perso i genitori e che non è cresciuto è rimasto detto anno peter pan perché poi non si è impegnato con la ragazza che di fatto poi l'ha mollato per questo motivo un film che è carino e simpatico e da guardare con la testa spenta non è naturalmente il padrino non è un altro cult non so del cinema come quarto potere non fa sempre ridere ci sono film da migliori di questo sul tema droghe sballo una notte da leoni su tutti il primo della trilogia ovviamente gli altri potete farmi noi vederli però ci sono alcune cose abbastanza simpatiche soprattutto questo tutto io una notte in cui tre amici devono riuscire a sistemare tutte le cose che hanno fatto storto poi ovviamente c'è qualcosa abbastanza stonato nel film che è come dire il sentimentalismo il buonismo il fatto che comunque tutto deve finire bene perché è natale a natale amore trionfo bla 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 tutte queste cose che abbiamo visto in mille film e che se vuoi fare un film sregolato devi farlo sregolato quindi lasciare da parte tutto questo sentimentalismo e mollare gli ormeggi e quindi essere politicamente scorretto fino alla fine cosa che poi non succede in questo film non si è politicamente scorretti si è scelto lo spirito natalizio ebbene a proposito di spirito natalizio poi il finale non si capisce bene per tutto il film vengono aiutati da questo spacciatore che rievoca spacciatori quando loro erano ragazzini non si capisce bene perché comunque rievoca i tre fantasmi di charles dickens quindi con uno spinello gli fanno vedere natale presente passato il futuro ma non si capisce perché poi prenda le ali diventi un angelo e nella scena finale è il figlio di babbo natale quindi una grande confusione che rovina un po quello che era un film discreto che si potrebbe che potrebbe stare su una sufficienza abbastanza scarsa comunque si è un film abbastanza divertente se a voi piace il genere di sicuro non vi deduterà quindi vi consiglio sballati per le feste con cetrogen film del 2015 in programmazione da poco sui canali satellitari italiani come per esempio la piattaforma sky buone feste da nerd station e alla prossima ciao ciao ciao